In data 24 agosto, nell'ambito delle specifiche attività di controllo ambientale disposte coordinate dall'ente riserve naturali Foce Selle Tanagro e Monti Eremita Marzano e dal comune di Capaccio Pestum, si è proceduto al sequestro preventivo di aree di terreno, di vasca e di canalizzazioni interrate di un'azienda zootecnica Sita in Gromola. Attraverso l'individuazione di liquami bufalini in alcuni punti della rete dei canali consortili in sinistra Sele, il nucleo ambientale investigativo del comune di Capaccio Pestum è riuscito a risalire all'allevamento che illecitamente immetteva i reflui aziendali in corpo idrico superficiale confluente nel fiume Sele. Immediata la chiusura dei canali di immissione che attraverso un sistema appositamente creato consentivano lo sversamento delle deiezioni bufaline nei canali.